Proviamo a vedere l'eclissi di sole del 25 ottobre 2022 dall'esterno, ovvero dallo spazio. Per fare questo utilizziamo il software di simulazione astronomica Celestia. Prima di iniziare però, vi ricordo che potrete seguire il procedere dell'eclissi a partire dalle 11.15 sul canale YouTube di Edwinaf. Vi lascio il link alla diretta in descrizione. Parto da questa posizione temporale qua, 25 ottobre, intorno alle 9 meno un quarto. Più o meno ho posizionato la Terra nel punto di massima visualizzazione dell'eclissi, che ricordo essere un'eclissi parziale. A questo punto accelero il tempo per iniziare a vedere l'ombra della Luna. Per quel che riguarda l'accelerazione e il rallentamento del tempo, utilizzate i tasti L e K. L accelera e K decelera, mentre J per mandare il tempo in avanti e all'indietro. Si riesce ad apprezzare l'avanzare della notte e a un certo punto lo spuntare dell'ombra della Luna. In particolare, soprattutto sopra la Russia. Eccola! Nella speranza che ciò sia stato utile, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti! Saluti a tutti!